Fatto! Da questo momento siete passati alla fibra di te. Grazie! Quanto retevo? Ma niente. Il modem fibra wifi è incluso. Tecnico e installazione sono gratis. E si naviga veloci? Ultra veloci! E potete navigare tutti contemporaneamente! Ma tutti quanti? Tutti tanti! Tutti tanti? Tutti tanti! Eh, tutti tanti! Ciao! Ciao! Ciao papà! Ma siete tutti connessi? Sì, stiamo giocando online. Dalla linea di casa nostra? È ultra veloce. This is a smart home! Ciao papà! Anche voi siete tutti connessi? Yes! È ultra veloce! Ma amore! E siamo stati invasi? Tesoro! Siamo passati alla fibra di Tim. Navighiamo ultra veloci e abbiamo chiamate illimitate verso fissi e mobile. Ho quasi finito! Si è invitato tutta la vita del circolo. Tutte quante? Tutte tante. Eccole! Ultra veloci! Vieni nei negozi Tim, chiama il 187 o vai su Tim.it!